L'avvio dell'offerta pubblica ufficiale e iniziale di Banca Popolare Vicentina si chiude alle 13 di giovedì 28 aprile, dopo che la Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ha approvato il prospetto informativo, tra le incognite, contenziosi e reclami per risarcimento che aumentano a ritmi settimanali vertiginosi. Ma l'esordio in borsa, previsto ai primi di maggio, si fa forte del sostegno del Fondo Atlante, creato per mettere in sicurezza gli aumenti di BPV e Veneto Banca, grazie al quale l'Istituto di Credito Berico non è colato a picco dopo l'azzeramento delle azioni ed ora la conferma della cosiddetta forchetta tra 10 centesimi e 3 euro. Atlante ha confermato impegni di sottoscrizione per 4 miliardi complessivi, confermando l'estensione della garanzia nel caso né l'ingresso in borsa né l'Opar, offerta pubblica, andassero a buon fine. Il quadro complessivo parla comunque di un istituto di credito in enorme sofferenza, anche se la liquidità mostra percentuali confortanti, grazie a cartolarizzazioni, cioè alla cessione di attività o beni, che solo tra gennaio e febbraio 2016 hanno reso un miliardo di euro.